Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi parliamo delle uscite del 2020 che più attendo, sto tenendo d'occhio eccetera e ho un elenco in realtà molto più dettagliato e più lungo ma mi sembrava parecchio noioso parlarne qua anche perché la maggior parte sono ovviamente uscite estere perché in Italia sia mai che sappiamo quando escono i libri, figuratevi, vogliamo vendere più copie per l'amore del cielo e quindi insomma parlerò soprattutto di quello che sto attendendo per il panorama fantasy e young adult all'estero ma un po' vi incastrerò anche qualche previsione di uscite italiane, poi vedremo se qualcuno ci darà anche delle date premessa per questo video che probabilmente dovevo fare subito però insomma il 2020 è un anno che apparentemente sarà molto molto sottotono ci sono poco uscite di autori che io seguo e che amo molto ma soprattutto non ci sono grandi previsioni per uscite che sconvolgeranno l'universo ci sono alcune cose interessanti sicuramente ma devo dire che probabilmente sarà più un anno dove vi consiglio di recuperare cose che avete un po' lasciato da perdere in questo periodo che è un po' il mio progetto per il 2020 poi ne parliamo nel dettaglio in un altro video oppure per cercare di scoprire qualche autore nuovo che sicuramente male non può fare perché secondo me è tutto molto 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 sottotono però insomma magari insomma vi lascio comunque anche linkata la mia lista più completa e più ampia di Goodreads con insomma le uscite 2020 che secondo me potrebbero essere interessanti nel panorama fantasy young adult sempre sul resto ci sono altri canali che se ne occupano meglio di me e quindi boh vediamo insomma sarà un anno strano comunque insomma partiamo perché di tutti i titoli trovate ovviamente giù nell'infobox tutte le informazioni sia di Goodreads che il link ad Amazon se volete supportarmi per comprare i libri tramite il link e niente quindi direi diciamo di iniziare perché non voglio che venga un video tediosamente lungo prendiamo il MacBook allora andiamo sui miei appunti così riusciamo un po' a capire a gennaio intanto esce Chosen di Kirsten White Kirsten White ha scritto questa serie che è una reimmaginazione nel mondo di Buffy The Vampire Slayer che io amo molto è uscita l'anno scorso con il primo volume che si chiama Slayer e che io devo ancora leggere però sono molto sincera quindi insomma adesso che so che c'è anche il secondo magari è un po' una spinta per buttarmi anche su questo titolo quindi io sono abbastanza curiosa ora che ce ne sono due di provare questa serie io sono una grande fan di Buffy quindi sono chiaramente in mega target cosa che non credo tutti siano fossero appena uscito e quindi insomma vediamo vediamo ci diamo un po' la spinta anche perché questo a quanto pare sarà un po' l'anno del ritorno dei vampiri o dal quale inizierà un po' il ritorno dei vampiri abbiamo già avuto The Beautiful di René Adier terribile però insomma vediamo a febbraio esce invece The Empire of Gold che è il terzo volume della serie ambientata ad Aevabad comunque iniziata con The City of Brass di S.A. Chakraborty io ho letto il primo, devo ancora recuperare il secondo e visto che c'è già il terzo direi che magari è anche questo il caso per buttarmi a continuare la serie insomma sono curiosa perché secondo me è molto affascinante ha comunque degli elementi molto originali, molto intensi quindi insomma sicuramente è una serie che voglio continuare in più uscirà anche in Italia che questo non è male, tanto per cambiare grazie alla Oscar Vault a marzo già iniziamo a entrare nella fase un po' più succosa perché esce il nuovo volume di Mary Lou che si chiamerà The Kingdom of Back che a quanto pare è un libro che ha a che fare con Mozart e con la musica tantissimo sono curiosa, io di Mary Lou ho letto in realtà The Young Elites che non era malvagio però non sono mai stata troppo attratta da Legend e dalle altre sue uscite quindi insomma è un'autrice che per me è piacevole da leggere però insomma non sono una sua grandissima fan ma questo ad esempio è qualcosa che tengo d'occhio beh poi a marzo esce anche Crescent City ovvero The House of Earth and Blood di Sarah J. Maas che devo dire che incredibilmente è uno dei titoli che io più attendo l'anno prossimo perché insomma Sarah J. Maas è un'autrice che a me diverte tanto mi dà un sacco di temi di discussione amo eviscerare tutto ciò che lei scrive perché è super problematico pieno di trash e quindi insomma non vedo l'ora, ve lo giuro che non vedo l'ora che esca non so nulla su questo volume nemmeno mi interessa saperne qualcosa so solo che la copertina che è piaciuta a tutti a me ricorda una coppetta mestruale rovesciata e io non ci posso fare nulla quindi è tutto già, parto già carichissima e mi spiace per i fan che chiaramente spero non prendano queste mie parole come qualcosa di offensivo perché non è assolutamente il mio intento però sono super carica cioè non vedo l'ora che esca invece arriviamo effettivamente ad un'uscita che attendo tanto ma che ho già quindi non vedo l'ora di metterci le mani sopra perché sono riuscita ad averne una copia in anteprima e in questo caso si tratta del nuovo libro di Maria Rutkoski che è The Midnight Lie e ho scoperto grazie ad Andrea Belfiore che non si può nominare il suo vecchio nickname hai ragione che in realtà è una storia ambientata nello stesso mondo di The Winner's Curse io invece pensavo fosse un romanzo completamente indipendente è una novella e in questo caso sono super curiosa perché per me Maria Rutkoski scrive da Dio scrive benissimo e quindi è sempre un piacere leggerla mi mancava perché dopo aver finito The Winner's Kiss insomma avevo bisogno di più Rutkoski e quindi non vedo l'ora spero di leggerla molto presto così ve ne posso parlare e anche per chi è appassionato o si è avvicinata alla serie che ricordo c'è anche l'italiano quindi non avete scuse insomma vi farò sapere ad aprile invece esce un nuovo romanzo di Mark Lawrence che si chiama The Girl and the Stars Mark Lawrence autore fantasy di numerosissime serie mia preferita chiaramente Red Sisters e compagnia quindi la storia di Nona Grey che uscirà in italiano ho scoperto che questa è un'ottima idea e insomma sono curiosa di leggere questa sua nuova avventura The Girl and the Stars è l'inizio di una nuova trilogia ambientata in un mondo fantastico dove esiste un buco nero nel quale vengono gettati tutti i bambini scartati perché hanno qualche difetto è un libro di cui non so molto e non voglio sapere molto tendenzialmente perché di solito mi devia molto la copertina però mi interessa la protagonista sarà femminile un po' come per Red Sister quindi vedremo super curiosa ho a Magish un sacco di roba per fortuna perché infatti c'è il ritorno di Kira Kass con The Bethroughed allora io ho un soft spot per Kira Kass che è l'autrice ovviamente di The Selection io trovo The Selection una serie super trash super divertente fatta con tutti i crismi del trash non manca nulla uomini e donne in versione distopia cioè ha tutto a me fa super ridere The Selection non ci posso fare nulla la trovo piacevole la trovo divertente e quindi non vedo l'ora di leggere una nuova roba di Kira Kass anche perché lei ci mette tutto il suo impegno nel rendere le robe trash però fatte bene cioè io apprezzo molto perché almeno non cerca di nascondere la vena un po' più eh? vi farò sapere invece a maggio esce anche il nuovo libro di Alwyn Hamilton l'autrice di Rebel of the Sands e insomma serie che è stata tradotta ed è uscita anche in Italia ed è stata anche molto apprezzata in questo caso il suo nuovo libro si chiama The Notorious Virtues e a quanto so e ne so molto poco in questo caso si tratta di una storia che seguirà insomma guerre per il trono cose di questo tipo ma ci interessa poco la storia di Persella la copertina mi piace molto è molto bella è dello stesso illustratore che ha curato la copertina di King of Scars e a me piace parecchio almeno le sue cose sono molto riconoscibili non ho mai continuato la serie di Rebel non so dirvi bene perché lo farò prima o poi ma è che tra il primo e il secondo era passato troppo tempo e io purtroppo non ho la migliore memoria che esista anyway sono curiosa comunque di questo nuovo lavoro perché comunque insomma di lei è un ricordo molto piacevole ok poi esce a maggio anche Aurora Burning che è il secondo capitolo di Aurora Rising di Jay Kristoff e Amy Kaufman questa in realtà è una segnalazione perché io non lo leggerò perché il primo sì carino però non è che mi ha lasciato proprio la voglia cioè oddio poi non lo so magari capiterà è giusto per sapere come va avanti la storia perché in realtà la storia di Persella la storia di base sarebbe anche molto interessante e con del grande potenziale però devo dire che tutto il resto a me non ha particolarmente colpita ci sono troppe cose che non mi fanno esaltare della serie e poi insomma fondamentalmente la storia principale che sarebbe la cosa più interessante di tutta la serie è lasciata in super secondo piano questo è un grande dilema però insomma vabbè esce magari se mi viene voglia o non c'ho niente da leggere o voglio qualcosa di leggere non lo so mi ci butto a giugno esce il nuovo libro di Patrick Ness chiamato Burn che è una storia un po' strana insomma dalla sinossi si intende che nel 1950 torno giù di lì il padre della nostra protagonista assume per tenere dietro ai campi un drago il che sembra già una minchiata fotonica però Draghi Patrick Ness Patrick Ness è un autore che io voglio leggere molto quest'anno quindi è un po' il mio autore di approfondimento e quindi io la butto lì potrebbe risultare interessante comunque una sua uscita che è sempre abbastanza attesa da chi lo ama molto quindi boh sono curiosa a settembre invece dovrebbe uscire Empire of the Vampire di Jay Kristoff che è la sua nuova serie dedicata ai vampiri io comunque sono cresciuta con i vampiri faccio fatica a trovarne dei nuovi significati e sarà questa forse la grande sfida del 2020 trovare dei nuovi significati alla figura del vampiro potrebbe diventare io la butto lì la seconda figura dei podcast dedicata alle figure del fantasy e non solo comunque non lo sappiamo ancora perché qualcuno non ha finito di scrivere comunque non è questo il tema di questa frase in ogni caso io sono curiosa la leggerò sicuramente a me Jay Kristoff piace quindi una serie per adulti dedicata a dei vampiri insomma male può andare male assolutamente però noi abbiamo grandi speranze positive invece ci sono due altre uscite che non hanno ancora una data definitiva ma che io sto tenendo d'occhio dovrebbe uscire il nuovo romanzo di Samantha Shannon che in realtà però dovrebbe essere il quarto libro di The Bone Season non ci sono conferme non c'è nulla di chiaro quindi insomma potrebbe essere un nuovo lavoro totalmente da zero oppure effettivamente il proseguo della sua serie più famosa la sua principale serie che è anche tradotta in Italia peraltro l'altra uscita che invece non ha ancora una data definita ma che in qualche modo mi incuriosisce ed è strano perché a me Victoria Schwab non ha mai esaltato tutto ciò che ho letto mi è sembrato molto mediocre però boh vediamo in ogni caso esce The Invisible Life of Eddie LaRue che è questa storia un po' che ha a che fare col soprannaturale fantasmi reincarnazioni cose che non ho capito ma non ho neanche approfondito comunque sembra una serie che ha del potenziale ma personalmente non ho grande fiducia nelle sue capacità di scrittura che per me sono molto molto scarse però insomma magari chi lo sa vedremo devo ancora leggere Vicious che è l'unico libro che un po' mi interessa di lei ce l'ho già lo leggerò quest'anno insomma vedremo in ogni caso vedremo anche questo Adela Ru cosa ci dirà insomma boh chissà magari è il libro che mi fa un po' ripensare alle capacità di scrittura di Victoria Schwab invece passiamo alle uscite italiane che so per certo intanto l'8 gennaio esce Our Dark Duet sempre a proposito di Victoria Schwab con questo oscuro duetto che chi ha letto il primo aspettava da una vita e mezzo però sappiamo che l'editoria italiana regala solo delle gioie poi a quanto pare senza date non so nulla di tutto ciò uscirà un volume di Guy Gabriel Cai che a quanto pare si chiama Figli della Terra e del Cielo non è indicata la data ora attendiamo vediamo così io spero davvero che però qualcuno si metta una mano sul cuore e ripubblichi la trilogia di Fiona io la butto lì eh uscirà a quanto pare anche Empire of the Vampire sempre di Jake Christoph in italiano vedremo magari non nel 2020 ma nel 2021 credo perché uscendo a settembre all'estero vorrebbe dire che più o meno dovrebbe uscire in contemporanea o magari bene speriamo incrociamo le dita capiremo uscirà anche la serie di Ken Liu che è un autore cinese molto amato e molto apprezzato con tanti richiami al fiabesco e non solo soprattutto la mitologia ovviamente orientale e cinese nello specifico che è la serie di The Dandelion Dynasty in questo caso il primo libro si chiama La Grazia dei Re staremo a vedere sono curiosa comunque poi andando invece alle cose che ho già letto uscirà The City of Brass la città di Ottone in italiano sempre per Oscar Volt che è l'unico che ci porterà delle gioie praticamente insieme a Fazzi Editore che ci porterà verso giugno a quanto ho capito verso metà anno The Starless Sea di Erin Morgenstern che dovrebbe chiamarsi Il Mare Senza Stelle sarebbe un titolo secondo me anche molto bello vedremo vi prego non fate danni che è il libro della vita è il libro più bello che possiamo leggere nei prossimi dieci anni a mio parere vi prego mano sul cuore Fazzi lo sapete che io vi voglio bene vi prego comunque uscirà ne siamo certi questa è una grande notizia come grande notizia è quella che lo sappiamo da un po' che uscirà la trilogia di Shadow and Bone di Leigh Bardugo quantomeno confermati il primo e il secondo non ho idea del terzo dovrebbe uscire comunque anche quello l'anno prossimo speriamo al massimo con una operazione alla Sarah J. Musk con la corte di rose spine quant'altro che è uscita a distanza di due tre mesi un libro dall'altro e bellissima notizia uscirà anche la nonna casa tradotto quindi è l'anno Bardugo io sono super contenta di questa cosa e non vedo veramente l'ora insomma questi sono secondo me i titoli che io sto attendendo di più ce ne sono tanti altri vediamo cosa combinerà quest'anno sono super curiosa di vedere che succederà se ci saranno uscite che particolarmente mi colpiranno saranno abbastanza destabilizzanti insomma tante cose che sono un po' rimaste aperte vediamo sono super super curiosa niente io più o meno vi ho raccontato tutte le cose che sto puntando in maniera massiccia fatemi sapere se invece c'è qualche uscita che attendete tanto voi se ne avete sentito avete qualche certezza in più che ci sta che tanto io faccio un po' le ricerche sommarie per questo tipo di video e quindi magari voi siete più informati di me e niente ragazzi io direi che ci sentiamo sotto nei commenti e per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao